come togliere il pin al tuo smartphone salve a tutti utenti di youtube da narratore italiano vediamo in questo tutorial di oggi come tolgo il mio pin al mio telefono rotella di ingranaggio quindi impostazioni ci clicco sopra a questo punto vado nel reparto ma in una scritta nella dicitura sicurezza ecco sicurezza è una icona che ha scritta sicurezza ma è l'icona di lucchetto blocco schermo ci clicco sopra devo mettere il mio pin in questo caso ve lo posso dire tranquillamente 1 2 4 5 me lo chiede a questo punto ci riclicco sopra e vado a stabilire di togliere il blocco schermo come faccio molto semplice vado semplicemente a cliccare su nessuno ok vuoi rimuovere la protezione del dispositivo fai sì ovviamente per rimuovere e in questo modo ho tolto di fatto de facto proprio il pin dal mio telefono cellulare del mio smartphone bene spero che questo tutorial di oggi ti sia stato d'aiuto il video termina qua iscriviti al canale commenta un saluto nei cari e al prossimo video tutorial Grazie per la visione!